Allbright, o anche chiamato Allbright Special, prendiamo il nodo, prendiamo lo shock leader o il filo al quale dobbiamo legare la lenza madre, creiamo un loop, lo teniamo fermo con le dita, prendiamo la cosiddetta lenza madre, inseriamo nella lenza madre, riportiamo generosamente verso il basso e a questo punto, tenendo fermo con le dita, cominciamo a ruotare, a risalire 5-6 volte, in modo ordinato, senza stringere eccessivamente. Ora entriamo nella parte del loop, ci troviamo in questa posizione che andremo molto semplicemente a chiudere senza far sovrapporre le spire, in un nodo sottilissimo, super resistente, possiamo testare in tanti modi, che potremo regolare nella parte inferiore dello shock leader e volendo chiudere ulteriormente con un paio di passaggi nella parte superiore, passaggi che spesso si rivelano non necessari, in questo modo il nodo è assolutamente sicuro, basta provarlo.